I varchi pubblici al pontile di Ostia sono chiusi per Covid, lo denuncia a sinistra italiana del decimo municipio che spiega con un cartello privo di indicazioni sulla determina e la normativa di riferimento il Movimento 5 Stelle abbatte di fatto i due simboli della riconquista dell'accesso libero e gratuito alle spiagge. L'amministrazione dovrebbe spiegare che nell'azione c'è tra la pandemia e questa decisione. La spiegazione delle ingenti risorse da impegnare infatti non regge. La regione, proprio per garantire la possibilità di andare in sicurezza in spiaggia, ha destinato moltissimi fondi al comune. Invece il Campidoglio sta investendo negli stabilimenti urbani, cioè nelle strutture realizzate in città. Praticamente l'obiettivo è replicare il modello Tiberis, l'arenile artificiale di Ponte Marconi. Peccato che Roma abbia il mare, ma evidentemente a questa amministrazione non interessa. È incredibile che chi ha vinto le elezioni, urlando giù il lungomuro, fino ad oggi non ha scalfito nemmeno un pezzetto d'intonaco, conclude Sinistra Italiana.